Sono fuori di testa, quello che devo fare lo faccio Sto io qui, io lo sape Un bacio Top A Eggs on the Beach hanno dimostrato di essere belli, passionali e sfrontati Ma saranno anche sinceri Make up, grazie un attimo, server restiamo con i server puntati Abboniamo Il collo mo Sì, sì, tutto quello che vuoi Hai mai fatto sesso con più di una persona nella stessa giornata? Sì, mi è capitato Mi è capitato quando ero più piccola in realtà Perché ero un po' più criminale con tre ragazze Ma in fasce orari diverse, tipo la mattina, il pomeriggio, poi si uscito con un'altra Io non riesco a gestirne uno, figurati se riesco a gestirne di più una sola giornata Hai mai tradito? Io al di fuori no, mai Sì, sono sincera, posso fare io lo sponsor di Porto Cervo Invece dentro la villa io mi sento di aver tradito Mi sento di avergli comunque mancato un pochino di rispetto Quindi perdonami, ti chiedo scusa amore Un bacio Top Hai mai misurato un pisello? Non mi interessa la lunghezza, bisogna saperlo usare Mi è capitato di misurarlo, sì, sincero Quanto è lungo? 17, 17 volte Tra l'altro anche il mio numero è il 17, ce l'ho stato proprio qua, quindi è perfetto Ah, hai capito, è stata scena nazionale Descrivi l'altro con una parola Non sbirciare Io l'ho capito dal primo sguardo che ci siamo lanciati quando è uscito dall'acqua Hai mai sfogliato degli sconosciuti? Sono sincera, al di fuori no, perché sono molto difficile Qua dentro, sono entrata a bomba, carica come una m***a Ragazzi, sono finita sotto coperta con Donato Che vi devo dire? Hai mai fatto sesso in pubblico? Ho scritto bagnoristo, nel senso che se dovesse essere proprio un... Hashtag bagnoristo Hashtag bagnoristo, il session è a Ristola Dicevo adesso vado in bagno, seguimi tra poco Ci guidavamo dentro e capitava qualcosa Ma io mi sono tolta però le mutande al ristorante Glielo ho lanciato nel piatto e gli ho detto questo non ti passo Però poi siamo andati a casa, cioè non... Invece là era bello se, da quella mutanda c'era No, io non vado in bagno dove te vai a pisciare, a cagare Ma no, 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 quello l'ho però un bagno Cioè pulito un attimo in un ristorante un po' più chic ci stava Sì, comunque sempre i bagni, eh Hai mai flirtato con qualcuno solo per far incazzare qualcun altro? Tu sì, io personalmente, cioè no Fedi bene? Può essere Può essere No, io volevo fargli un po' girare il c***o a Sasha Perché era sempre lì attaccato, qua, parla di là, parla E poi mi guardi e poi va a f***o, allora no Hai mai frustato qualcuno? Io mi faccio frustare Sono un po' tipo... Azzorro Sono innamorato dell'amore ma qui non può esistere l'amore Semplicemente infatuazioni o momenti di forte... di forte intrigo Però io e te avremo tanti bambini L'amore è un'altra cosa... L'amore è un'altra cosa... Sassione? Dillo Dillo bene Dimmelo Biet... Sassione Sì Follia! Io sono folle, sono fuori di testa Quello che devo fare lo faccio Chi è il vero sultano della villa? Sono io! Sto io qui Io lo so Ciao Amori Vi amiamo Vi amiamo, siete fantastici davvero Grazie Grazie